Hai bisogno di crediti? Passa da fifaeasy.com, codice coupon malati15 e in questo modo avrai l'8% di sconto. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky per Noi Malati di Foot e oggi vi portiamo un fantastico squad builder tutto pieno zeppo di upgrade, ovviamente non tutti ma quasi tutti, e con giocatori veramente interessanti. Partiamo immediatamente. Andrea Consigli, giocatore che mi è piaciuto moltissimo e molto alto, quasi 1,90, tuffi ottimi, prese ottime, piazzamento anche, riflessi così così rinvii da rivedere, però tutto sommato direi un portiere che per 12.250 crediti come if va benissimo. Terzino destro parliamo di Mathieu Debussy, giocatore affidabile che costa poco, consigliatissimo. Altro terzino, questa volta parliamo di Schmelzer e questo ve lo consiglio ad occhi chiusi, è un upgrade lui ed è un giocatore fantastico, veramente vi recupera molti anche in velocità nonostante abbia solo 78 sulla carta, ottima difesa, ottimo fisico, ottimo passaggio. Difensore centrale, di sinistra, Acerbi. Acerbi ha una velocità bassa, cioè bisogna dirlo, però come difesa e come fisico ci siamo. Magari pecca un pochettino appunto nella velocità, però quell'1,92 di fisico fa sì che sia veramente un muro. Altro difensore centrale, Khalidou Koulibaly. 1,95, non ho molto da dire, upgrade meritato ed è ancora più forte di prima. Poi passiamo al centrocampista centrale, Kanté, giocatore molto molto forte, un upgrade anche lui meritatissimo nel suo Leicester. Due assist in 10 partite, devo dire affidabile, molto molto forte in difesa, pensavo avesse 80 invece ha solo 72 sulla carta ma dimostra di più. Buon dribbling, devo dire, buonissima velocità e buon fisico. Magari l'unica pecca è che è un pochettino basso, ma per il resto caratteristiche molto molto buone. Altro CC e parliamo di Goretzka. Lui 10 partite, 2 gole, 2 assist e vi posso assicurare che si sente tantissimo in campo. Sa fare entrambe le fasi, sia difensiva, sia d'attacco. 81 di velocità, ottima. 77 di dribbling e 4 stelle skill. Quindi con questo giocatore potete anche skillare, ma sa, come detto, anche difendere. Ha un ottimo passaggio, 76. E poi guardate, è alto 1,89. Quindi anche lui un buon muro a centrocampo. Passiamo alle ali d'attacco. Una è Eric Lamela, upgrade anche per lui. Devo dire che le differenze con la sua versione base non si sentono tantissimo, però ha un ottimo dribbling, una buona velocità, un ottimo tiro a giro. Sfruttatelo perché è veramente devastante. È un buon passaggio, devo dire. Il fisico pecca un pochettino, però ha le 4 stelle skill. Utilizzate il dribbling, utilizzate le finte, perché lui le sa fare molto bene. 10 partite, 5 gole e un assist. Quindi ottimo. Altra ala d'attacco. Qui parliamo di Sané. Giocatore che mi ha sorpreso veramente tantissimo. Ha un 90 di velocità che è devastante, veramente. È velocissimo questo giocatore. Vi recupera anche molti centrocampisti o molti ali d'attacco se si trova un pochettino più dietro. Quindi è una caratteristica in più che ha. Il passaggio così così è un po' da rivedere. Non usatelo tantissimo, però i suoi cross di sinistro sa farli. Ha 4 stelle piede debole, quindi potete anche utilizzare il destro. Ha un buon dribbling. Peccato per le 3 stelle. Mossa abilità, se ne avesse avute 4 sarebbe stato fantastico. Io l'ho preso a 650. Si trova anche un pochettino di più, però è un ottimo giocatore upgrade. Meritatissimo. Lui prima era argento. Poi passiamo al giocatore, secondo me, più forte di questa squadra. Anzi, non secondo me, ve lo assicuro. Ed è Antoine Griezmann. Questo è un giocatore che non ha ricevuto upgrade in versione NIF, però è un giocatore che mi serviva per la squadra per fare intesa, ma è fantastico. 10 partite, 6 gol e 3 assist da COC in questo ruolo. Vi posso assicurare che sono veramente tanti. Ha 4 stelle, mosse, abilità, che è una caratteristica in più. Che ha un ottimo tiro, 81, un buon dribbling. Pecca un po' nel fisico, ma è un giocatore brevilinio e quindi alla fine ci sta. Occhio al tiro, pallone finisce in rete, ma è ovviamente sul Correa. Si contendono il controllo del pallone. Griezmann, attenzione, ecco il gol. Stratime, Griezmann. Pericolo, ecco il tiro. Punta di questa squadra, parliamo di Angel Correa. Upgrade anche per lui e si sente soprattutto in fase di dribbling e di tiro. 10 partite, 3 gol e 2 assist. Vi devo precisare che ho giocato con questa squadra in prima divisione, quindi non potevo fare 20.000 gol. Comunque i giocatori sono forti che andavo ad affrontare e mi sono salvato. Comunque i giocatori sono forti che andavo ad affrontare e mi sono salvato. C'è la batteria per andare. Correa, 1 a 0. Arriba. Ottima visione di giocco. A spazio, prova, il corpettino. Correa. C'è la batteria per andare. Correa. E c'è il gol. C'è il gol. Prova, porta. Sprezzato bene qui. Questa non è una squadra che alla fine vi fa vincere la divisione 1 Cioè questo ve lo devo dire Però vi diverte, tipo in seconda divisione potete vincere senza problemi In prima io mi sono salvato ma anche un po' faticato Però è una squadra per farvi vedere, per testare gli upgrade E vi devo dire che mi hanno sorpreso più di tutti sicuramente Sané Poi un ottimo Goretzka se si pronuncia così Schmelzer veramente buono E poi Kanté e poi mi è piaciuto molto Koulibaly Per il resto un'ottima squadra Niente ragazzi, il video finisce qui Spero vi sia piaciuto C'è un bel impegno sotto per farvi vedere giocatore per giocatore le clip Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale E niente, da Ricky è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video